cari amici ben ritrovati come preannunciato la scorsa settimana continuiamo questo percorso di catechismo i messaggi del 18 marzo quelli che la regina della pace affida a miriana la volta scorsa ho scelto di cominciare questo percorso in un giorno molto particolare il 24 di giugno si ricorda infatti l'anniversario della prima apparizione a meggiugorje quando proprio miriana e i vanca hanno incontrato la gospa hanno riconosciuto questa presenza del cielo e dicevamo soprattutto i vanca con questa apertura del cuore favorita dal fatto che aveva perso la madre da poco tempo e quindi era molto sensibile a questi argomenti della trascendenza questa apertura verso l'oltre e verso verso il cielo e vi dicevo cominciamo un cammino che sarà scandito settimana dopo settimana dai messaggi del 18 di marzo sono messaggi particolari intanto rientrano in una fase a parte quando si parla dei messaggi di meggiugorje si distinguono spesso delle fasi del piano di maria attraverso i messaggi noi sappiamo che già nel 4 aprile 1985 la madonna disse che avrebbe dato a meggiugorje dei messaggi come mai era accaduto in nessun'altra parte del mondo nella storia prima di allora ed è andata proprio così ad oggi dopo 40 anni di apparizioni sono oltre 1200 messaggi pubblici sono tantissimi e propri messaggi nel modo e nel tempo con cui vengono affidati ai veggenti e tramite i veggenti al mondo intero scandiscono delle fasi di meggiugorje in sintesi potrei dirvi che abbiamo i primi tre anni dall'81 all'84 con dei messaggi pressoché quotidiani che un po contengono in nuce tutto il messaggio di meggiugorje i cinque sassi l'appello alla conversione i dieci segreti di meggiugorje poi abbiamo altri tre anni dall'84 all'87 con i messaggi settimanali che vengono dati alla parrocchia ogni giovedì il tema è l'eucarestia il centro attorno a cui ruota la vita di fede e di preghiera di una comunità dal gennaio dell'87 incominciano i messaggi del 25 del mese che durano ancora oggi sono quelli che attraverso maria vengono dati alla parrocchia di san giacomo e a ogni parrocchia del mondo quindi alla chiesa universale in quello stesso anno miriana comincia ad avere delle apparizioni straordinarie il due di ogni mese e dieci anni dopo 2 marzo 1997 comincia ad avere i messaggi del 2 del mese a scadenza più o meno regolare vengono resi pubblici e dal 2005 tutti i mesi noi accogliamo questi messaggi che sono per coloro che ancora non conoscono l'amore di dio potremmo dire semplicemente i non credenti in realtà erano anche per noi perché anche per noi vale l'invito a fare esperienza concreta dell'amore di dio lungo il cammino della vita abbiamo avuto una fase molto lunga di questi messaggi ci sono conclusi il 2 marzo del 2020 e forse abbiamo un po smarrito ecco in sottofondo una sorta di quinta fase parallela perché possiamo dire in fondo che la quarta quella dei messaggi del 25 è ancora aperta e durerà finché non cominceranno i segreti ma dal 1991 hanno avuto inizio i messaggi annuali a miriana e questi messaggi durano tutt'oggi uno potrebbe dire ma in fondo anche jacob e anche ivanka che hanno già avuto 10 segreti e ciascuno hanno un'apparizione annuale jacob il giorno di natale ivanka il 25 di giugno quindi perché parlare dei messaggi di miriana beh per due ragioni una riguarda la tempistica che è stata scelta il 18 di marzo è il giorno in cui la veggente compie gli anni ma la madonna ha detto chiaramente non è questa la ragione per cui ho scelto questo giorno lo capirete nel tempo dei segreti allora possiamo pensare che quando cominceranno i segreti il 18 di marzo sarà una data importante e poi perché questi messaggi incominciano nel 1991 e qui so che chi di voi segue un po le mie catechese o i libri che faccio compadre livio ha già ovviamente insomma intuito il perché di questa data nel 91 crolla il comunismo sovietico incomincia il trionfo del cuore immacolato di maria la promessa che era stata fatta fatima il comunismo avrebbe sparso errori ed errori nel mondo ma se si fosse consacrata alla russia al cuore immacolato di maria ci sarebbe stato il trionfo di questo cuore immacolato un tempo di pace la conversione della russia in quel 1991 tra l'8 dicembre il 25 dicembre si scioglie l'urs e viene ammainata per l'ultima volta la bandiera rossa sul cremlino quindi siamo nell'anno decisivo per dire comincia il trionfo del cuore immacolato di maria e ricorderete che il 25 agosto di quell'anno la madonna dice chiaramente sono venuta per concludere compiere realizzare qui a meggiugorie quello che ho cominciato a fatima con i segreti iniziati la questa immagine dei segreti iniziati la è molto eloquente per noi perché sappiamo che il primo segreto era la visione dell'inferno ai tre pastorelli di fatima il secondo era la profezia storica della seconda guerra mondiale e del comunismo terza parte la visione del papa che viene ucciso mentre sta salendo una montagna sormontata dalla croce e abbiamo detto che sì poteva esserci anche un rimando profetico all'attentato di contro giovanni paolo secondo in piazza san pietro il 13 maggio 1981 ma soprattutto era l'immagine di quella profezia del tempo escatologico in cui la chiesa sarebbe stata perseguitata ci sarebbe stato un papa martire ci sarebbero state guerre devastazioni in tutto il mondo quindi una profezia come disse nel 2010 benedetto sedicesimo aperta sul futuro del mondo e allora abbiamo visto in altre occasioni come in fondo i segreti di meggiugorie soprattutto gli ultimi sette i cosiddetti castighi nel senso biblico del termine e sono compresi un po nella terza parte del segreto di fatima meggiugorie compie fatima perché ho dovuto fare questa lunghissima introduzione e intanto perché non posso dire tutto ogni volta dobbiamo introdurci e come si può dire consolidare un po le premesse prima di entrare nel vivo dei messaggi del 18 di marzo ma queste premesse sono fondamentali per comprendere il significato e l'importanza di questi messaggi se nel 1991 incomincia il trionfo del cuore immacolato di maria che sappiamo si concluderà dopo il tempo dei segreti se nel 1991 viene detto che meggiugorie completa fatima è evidente che un secolo di prova corre proprio da fatima a meggiugorie ed evidente che concludendosi questo secolo ci saranno i segreti ecco perché prepararsi ai segreti che l'intenzione di queste brevi catechesi significa anche conoscere il contesto di attesa escatologica in cui si collocano questi messaggi perché ho parlato di un secolo di prova perché prima ancora di quel 1991 fin dal principio fin dalle prime apparizioni la madonna aveva spiegato che cosa era in gioco mi riferisco al messaggio che commento questa sera del 14 aprile 1982 dovete sapere che satana esiste egli un giorno si è presentato davanti al trono di dio e ha chiesto il permesso di tentare la chiesa per un certo periodo con l'intenzione di distruggerla dio ha permesso a satana di mettere la chiesa alla prova per un secolo ma aggiunto non la distruggerai questo secolo in cui vivete sotto il potere di satana ma quando saranno realizzati i segreti che vi sono stati affidati il suo potere verrà infranto già ora egli comincia a perdere il suo potere e perciò è diventato ancora più aggressivo distrugge i matrimoni solleva discordie anche tra le anime consacrate causa ossessioni provoca omicidi proteggetevi dunque con il digiuno e la preghiera soprattutto con la preghiera comunitaria portate addosso oggetti benedetti e poneteli anche nelle vostre case e riprendete l'uso dell'acqua benedetta ecco vedete questo messaggio che compadrivio citiamo tantissime volte anche nei nostri libri nelle nostre trasmissioni è veramente denso dovete sapere che satan esiste sembra scontato una verità di fede lo afferma il catechismo andiamo a leggere i numeri 1033 1037 e vediamo come l'inferno e il demonio siano dei contenuti di fede essenziali per il cristiano perché se uno dovesse chiederti per quale motivo gesù è morto in croce non è morto per far vedere che non so la pace è un ideale per tutti i tempi e tutte le stagioni e neanche è morto perché è dio avesse semplicemente bisogno di chissà quale sacrificio cruento per ripagare chissà quale peccato dell'umanità è morto per liberarci dal maligno dal peccato e dalla morte e guardate come questi tre elementi siano quelli che più sovente si tacciono anche nella predicazione in certa parte della chiesa di oggi il demonio sembra ormai un retaggio del medioevo un'invenzione una favola poi lo dicono quegli stessi che credono ai maghi ai fattucchieri ad halloween e a tante sciocchezze simili però il demonio no e lo diceva baudelaire quindi non proprio un chirichetto che la principale astuzia del demonio è quella di far credere che lui non esiste perché così può agire indisturbato e non mi sto riferendo a chissà quale libro di cultori di demonologia è sufficiente leggere il libro più importante per capire chi è il demonio come agisce e come ci si può proteggere questo libro è il vangelo perché è gesù che parla del demonio meglio di chiunque altro ma poiché la chiesa ha dimenticato questo insegnamento è perché la madonna dice dovete sapere che satana esiste egli un giorno si è presentato davanti al trono di dio e ha chiesto il permesso di tentare la chiesa questo è un insegnamento che già l'antico testamento possiede vi ricordate il libro di giove quando si dice che satana torna da un giro sulla terra e chiede a dio il permesso di tentare proprio giobbe questa verità è importantissima e lo so il demonio vi vuol far credere che c'è del male in quest'idea allora anche dio è d'accordo con satana per metterti alla prova non è da intendere così questo è un pensiero luciferino prendila nel verso giusto satana non può fare nulla se dio non glielo permette e guardate che questo pensiero non è soltanto di conforto a chi purtroppo attraversa la tribolazione di una di una vessazione o di una possessione diabolica ma è di conforto anche per noi quando pensiamo che il maligno vorrebbe distruggere la nostra vita la nostra famiglia i nostri cari diciamo qualunque cosa farà dio gliela permette e la scrittura ci insegna per mezzo dell'apostolo che tutto concorre al bene di coloro che amano dio quindi non possiamo temere la madonna dice in particolare che dio ha concesso a satana di mettere la chiesa alla prova per un secolo questo secolo in cui vivete è il ventesimo secolo perché siamo nel 1982 e sotto il potere di satana è il secolo delle ideologie del male leggete quel bellissimo libro di giovanni paolo ii che ha anche il suo ultimo libro scritto memoria identità del 2005 e vedete come il ventesimo secolo raccoglie tre secoli di allontanamento da dio sotto il cappello delle ideologie del male nazismo comunismo fascismo che poi però vediamo non rappresenteranno la fine del pensiero anticristiano perché come ben ha detto benedetto sedicesimo ci sarà poi una dittatura ancora più pericolosa quella del relativismo per cui non c'è più verità non c'è più dio non c'è più morale e così si perde anche il senso dell'uomo e della vita ma intanto la madonna dice questo secolo è sotto il potere di satana un secolo che va da fatima a meggiugorie ma quando saranno realizzati i segreti che vi ho affidato il suo potere verrà infranto intanto ci conforta il fatto che dio dice io ti permetto di mettere alla prova la chiesa ma non la distruggerai quindi con buona pace di quelli che dicono il papa non è il papa la chiesa non è più la chiesa no la chiesa c'è la chiesa è santa perché è di cristo la chiesa è indistruttibile perché come ha detto la regina della pace il 2 dicembre del 2015 mio figlio ha dato un cuore che l'eucarestia l'eucarestia è gesù vivo indistruttibile quindi la chiesa durerà fino alla fine dei tempi e poi ovviamente sarà questo corpo mistico glorificato nell'eternità del cielo sarà la chiesa trionfante ma già adesso questa chiesa peregrinante subisce questi assalti satanici perché è chiamata a vivere la passione che già cristo ha vissuto il calvario la morte in croce per poter poi risorgere quindi non stupiamoci di questa prova anche gesù ce l'aveva detto se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi il discepolo non è da più del maestro dio ci rassicura la chiesa non verrà distrutta dal demonio però viene messa alla prova lo permetto io quindi state tranquilli e la madonna rincara questa dose di rassicurazione materna come sa fare lei dicendo guardate che poi il suo potere verrà infranto cosa vuol dire non verrà spazzato via il demonio sappiamo che i tempi della prova sono due come nel libro dell'apocalisse si fa capire c'è un tempo in cui satana viene incatenato l'apocalisse usa un termine simbolico i mille anni la madonna lo vedremo nel messaggio del natale del 99 parla di un secolo di pace che verrà concesso al mondo dopo il tempo dei segreti un secolo o più di un secolo comunque sono due combattimenti escatologici nel primo è la madonna la donna vestita di sole che affronta il dragone infernale che vince il suo trionfo del suo cuore immacolato compie il tempo dei dieci segreti ci sarà un tempo di pace satana non è eliminato per sempre il suo potere infranto indebolito e come se finalmente la fede potesse trionfare nel nel mondo ma poi e di lì a poco un secolo poco più l'umanità sarà ancora tentata di ribellarsi contro dio e lì sarà l'ultimo dei combattimenti quello in cui lucifero sarà fronteggiato dal signore stesso ci sarà la parusia il ritorno di gesù nella potenza della gloria e la fine dei tempi questa raffigurazione così apocalittica potrebbe indurre qualcuno a dire ma queste sono tutte storie queste sono fantasie della chiesa del medioevo ma guardate con che concretezza la madonna spazza via il dubbio di chi dice ma figurati se il demonio esiste figurati se opera io ti faccio vedere come agisce tu capisci che esiste distrugge i matrimoni il 2019 è stato l'anno del sorpasso me lo sentite ripetere tante volte perché in italia il numero di divorzi e separazioni come totale ha superato quello dei matrimoni civili o religiosi siamo in una fase di regressione se la famiglia è lo specchio della santissima trinità è il vertice della creazione evidente che il demonio cerca di distruggere proprio la famiglia ci sono le discordie anche tra le anime consacrate ma è come in questo tempo la chiesa è divisa paroci contro paroci ma anche vescovi cardinali ci sono tante correnti di pensiero invidie rancori gelosie e a un certo punto quella preghiera di gesù che ricordiamo dell'ultima cena padre che siano una cosa sola sentiamo che vale anche per la gerarchia ecclesiastica e non solo per i poveri fedeli e poi ancora si dice provoca ossessioni e omicidi le ossessioni non sono semplicemente a livello psichico sappiamo che la depressione la vera peste del ventunesimo secolo ci sono più di 330 milioni di persone nel mondo malate di depressione hanno il mal di vivere e per quanto riguarda gli omicidi non possiamo pensare semplicemente alla violenza urbana dobbiamo pensare al vero omicidio quello compiuto con i guanti bianchi e con l'avallo della società di oggi che è l'aborto 50 milioni di bambini abortiti ogni anno significa negli ultimi 40 anni mal contati poco meno di 2 miliardi di esseri umani che non possono vivere la loro vita poi spacciando questo omicidio come salute riproduttiva diritto della donna e le sciocchezze maggiori che soltanto il demonio può mettere nell'agenda politica di quegli stati che si ritengono moderni perché hanno finalmente raggiunto questo traguardo di dire l'aborto e la via della liberazione il signore è stato molto chiaro commettere l'aborto è un omicidio gravissimo grida vendetta al cospetto di dio è una nazione che sceglie di uccidere i propri figli non ha futuro la concretezza con cui il demonio agisce la madonna la dice chiaramente poi però non si limita a dirci siete nella prova ma ci indica anche i rimedi attenti bene proteggetevi con il digiuno e la preghiera soprattutto la preghiera comunitaria quante volte ci siamo detti pregare in famiglia è potentissimo ah ma io dico le mie preghiere mio marito le sue mio figlio no pregate insieme perché gesù ha detto dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro la preghiera comunitaria non è una somma è una moltiplicazione di forze spirituali e poi proteggersi col digiuno perché il digiuno purifica l'anima rafforza la volontà e allena nella lotta quotidiana contro il peccato e ancora dice la madonna portate addosso oggetti benedetti voi sapete che io vado fiero della mia croce di san benedetto che mi porto sempre dietro perché è un segno benedetto viene da me giugorie uno può portare qualunque segno benedetto con sé dal rosario alla croce l'anello la catenina qualcosa il bracciale la catenella del monfort qualcosa che ti ricorda a chi appartieni lo ricorda te e lo ricorda anche al demonio ecco che amici questo era un po l'insieme di tante cose forse troppe che volevo dirvi in questa seconda puntata in preparazione i segreti per capire qual è il contesto il contesto di una grande battaglia tra il signore gesù e satana in paglio ci sono le nostre anime e dobbiamo far tesoro delle parole della regina della pace per ottenere attraverso di lei e con la grazia di dio la salvezza eterna sia lodato gesù cristo